Notizie di Prato Tg, a tutti buonasera. Sesso con ragazzini, è stato arrestato uno studente universitario di Montemurlo, si fingeva il diavolo e abusava degli adepti, era già indagato da febbraio, oggi l'arresto è stato messo ai domiciliari, sentite. Diceva di essere il diavolo, un vampiro, un lupo mannaro e convinceva le sue vittime, anche minorenni all'epoca dei fatti, marzo e aprile 2019, a piegarsi alle sue voglie e a soddisfare ogni sua richiesta. Uno studente universitario di 23 anni, residente a Montemurlo, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. Il giovane era stato già indagato a febbraio perché è ritenuto il capo di una setta con almeno quattro adepti, tre ragazzi, due dei quali fratelli e una ragazza. La polizia lo ha arrestato oggi su mandato del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze, che accogliendo la richiesta della direzione distrettuale antimafia competente per questo tipo di reato, ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Allo studente vengono contestati 13 episodi di violenza sessuale. Secondo l'accusa, avrebbe costretto gli adepti a subire atti sessuali dopo un patto con il diavolo. Il 23enne sarebbe riuscito a convincere i suoi seguaci di avere poteri soprannaturali e che con la loro collaborazione sarebbe riuscito a cambiare il mondo. Per essere sicuro di avere il controllo sui giovani avrebbe anche messo in scena una sorta di resurrezione, inscenando con l'aiuto di un complice uno strangolamento per poi rialzarsi, sistemarsi il collo e tornare in vita. Non solo, alle vittime avrebbe raccontato che nelle loro vite precedenti avevano avuto identità che solo lui conosceva e che avevano portato a termine la missione di salvare il mondo. Nel tempo, lo studente universitario avrebbe acquisito sui ragazzini una forza psicologica tale da avere su di loro il pieno controllo. Secondo la sua dottrina, gli atti sessuali erano la chiave per liberare i demoni. Gli incontri della setta sarebbero avvenuti nel parco di Galceti, nella zona di Galciana e nei pressi della multisala. A far emergere gli abusi sono state le denunce delle famiglie presentate in seguito a un percorso psicologico seguito dai figli. Si è spinta oltre la ringhiera del balcone tenendo in braccio i suoi figli, due gemelli di un anno e minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto. Attimi di paura a quelli vissuti ieri pomeriggio a San Paolo, dove una donna cinese di 25 anni ha messo in atto il tentativo di suicidio, per fortuna sventato dal marito e dai parenti, che sono riusciti a mettere in salvo i bambini con l'aiuto di due poliziotti, nel frattempo fatti intervenire in salvo ovviamente anche la giovane madre. Gli agenti sono riusciti ad afferrare la donna e a trascinarla in casa. L'allarme al 113 è arrivato intorno alle 15.10. Sul posto anche un'ambulanza inviata dal 118. Alla base del gesto ci sarebbero i problemi psichici dei quali soffrirebbe la donna già dalla gravidanza e che sono appunto culminati nel drammatico episodio di ieri. Spaccio di droga lungo l'argine dell'Ombrone. A Iolo a mettere la parola fine sono stati i carabinieri che hanno arrestato uno spacciatore marocchino al quale sono state sequestrate 20 dosi di cocaina e circa 300 euro. È successo ieri, i militari della stazione di Iolo hanno notato un continuo via vai di persone lungo l'argine, molte delle quali note per fare uso di stupefacenti. Dopo aver osservato i movimenti dello spacciatore e averlo visto cedere dosi a due tossicodipendenti, sono intervenuti e lo hanno arrestato. E un altro spacciatore, anche lui marocchino, è stato invece fermato e arrestato in piazza dell'università. I carabinieri lo hanno bloccato mentre nascondeva dosi di hashish negli slip. La perquisizione della sua casa ha portato al sequestro di circa un etto e mezzo di hashish e di diverse dosi di cocaina. Il consueto bilancio del coronavirus nell'area pratese, nessun nuovo contagio, nessun decesso nelle ultime 24 ore. Nel resto della Toscana il quadro è decisamente confortante. Quattro nuovi casi e altre due vittime. Coronavirus, zero nuovi casi, zero decessi nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato, lo dice il bollettino della regione che registra in tutta la Toscana quattro contagi e due vittime, con i bilanci che salgono rispettivamente a 10.121 e a 1.055. Prato resta ferma a 565 positivi e a 48 morti. L'andamento continua a dare segnali confortanti, con la Toscana che si conferma al decimo posto in Italia per numerosità dei casi, 271 ogni 100.000 abitanti rispetto a una media nazionale di 387 e all'undicesimo per tasso di mortalità con 28 ogni 100.000 abitanti in confronto a una media nazionale di 55. I guariti nelle ultime 24 ore sono aumentati di 40 unità, raggiungendo quota 8.093. 1.033 i pazienti che non hanno più sintomi dopo le cure ricevute ma che continuano ad essere positivi al tampone e 7.060 quelli risultati negativi dopo il doppio controllo. Si riducono ancora i pazienti ricoverati negli ospedali toscani. Attualmente sono 101, 9 in meno di ieri, di cui 25 in terapia intensiva. Per quanto riguarda i ricoveri totali, è questo il punto più basso raggiunto dall'8 marzo. Parliamo di asili nido, non ci sono certezze sulla ripartenza, i costi sono alle stelle, gli operatori chiedono aiuto, problemi analoghi a quelli dei centri estivi. Ha seguito per noi Eleonora Barbieri. Sulle spalle il peso economico di tre mesi di chiusura forzata e all'orizzonte nessuna certezza per la riapertura di settembre su misure di sicurezza, spazi e contributi. Dire che il mondo dei nidi naviga a vista è un eufemismo e all'incertezza che caratterizza il piano nazionale si aggiunge quella comunale che ancora non ha dato risposte sul rinnovo delle convenzioni e sul pagamento dell'acconto dei contributi previsto da un apposito bando. Il punto sui problemi del settore è stato fatto stamani a Confartigianato in Prese Prato da due membri del tavolo tecnico dei nidi convenzionati di Prato, Sabrina Testi e Nadia Lunghi. Dare sempre in certezza alle famiglie che ci chiedono come si fa, quando ripartite, in che tempi possiamo iscrivere i nostri bambini, questo ci crea non poca difficoltà. Un problema non da poco, dato che a Prato operano 34 nidi convenzionati che ospitano mille bambini e sette comunali con 300 bambini. Significa che molte famiglie rischiano di ritrovarsi senza servizio. Molto dipenderà dalla distanza da tenere. In questo momento non sappiamo quanto personale potremmo prendere perché non sappiamo quanti bambini, in base a tutte le normative Covid, potremmo accogliere all'interno delle nostre strutture. Incertezza che caratterizza anche il rinnovo delle convenzioni comunali, quindi a monte di tutto. Le pratiche sono già state presentate al SUAP, ma al momento tutto tace. Come tace il fronte dei centri estivi che sono organizzati anche dalle cooperative che gestiscono i nidi. Dovevamo già avere a disposizione le scuole per accogliere chiaramente i bambini, però anche di questo non sappiamo niente, quindi contributi non ce ne sono, le strutture su cui fare i nostri centri estivi neppure, naturalmente è una grossa incognita. Se dovremmo partire il 15 di giugno, chiaramente è una data alle porte, le incognite si sommano. E per qualcuno che cerca risposte alla ripartenza, c'è qualcun altro che invece è pronto a riaprire i battenti, per esempio la scuola calcio della Grignanese, che è pronta per gli allenamenti dei più piccoli, ovviamente seguendo i rigidi protocolli sanitari. Ancora Eleonora Barbieri. A Grignano il pallone torna a rotolare sul rettangolo verde prima che altrove. Dal lunedì scorso pulcini ed esordienti della scuola calcio dell'ACU Grignano sono di nuovo nel campo San Pietro per riprendere gli allenamenti individuali. Una scelta, quella della società, del presidente Fabio Gori, che punta a due obiettivi, permettere ai bambini di tornare a calciare il loro amato pallone e dare un servizio alle famiglie. Un portare i bambini al campo, togliergli dalla strada e togliergli dalle case dove sono chiuse che magari non riescono a trovare spazi che siano fondamentalmente protetti. Perché qui tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto secondo un protocollo ministeriale. Protocollo a cui tutti devono attenersi. Ingressi scaglionati con misurazione febbre, rilascio di autocertificazione, sanificazione delle mani. Ogni giocatore ha con sé uno zaino per la bottiglia dell'acqua, la mascherina, palloni e guanti dei portieri sono sanificati. Veniamo al campo. Il bambino viene portato nel suo quadrato di 5 metri per 5, che vedete delineato ogni pallone che vedete, all'interno del quale depositerà il suo zaino e si toglierà la sua mascherina depositandola all'interno dello zaino. Gli istruttori, che saranno comunque a 5 metri di distanza perché sono all'interno di questo percorso, faranno vedere solamente tecnica individuale e da fare all'interno del quadrato. Dopodiché si passerà a una sorta di percorso diverso che non è altro che entrare dalla parte opposta, fare vari dribbling e esercizi che poi propongano gli istruttori per arrivare a una conclusione di tiro. Alla conclusione di tiro il pallone può essere raccolto e deve essere riportato alla postazione base passando al percorso dietro ai coni gialli. Facendo così le distanze restano sempre di 5 metri tra un bambino e l'altro. Logica che vale anche per l'uscita, scaglionata e organizzata lungo il corridoio accanto al campo da tennis. Fuori ma a distanza ad attendere i ragazzi ci sono i genitori, felici di vedere i propri figli soddisfatti e sorridenti. Naturalmente sono off-limits, spogliatoi, bar e spazi comuni. Si arriva, ci si allena e si riparte verso casa. Non è la normalità, ma di fronte alla minaccia del Covid ci assomiglia moltissimo. Edilizia urbanistica, c'è un piano di sostegno. Balconi e terrazzi non verranno più conteggiati fra le superfici edificabili. Incentivi economici per chi favorisce i temi ambientali e incentivi collettivi all'eco bonus che coinvolgono interi quartieri. L'amministrazione comunale ha approvato il piano di azione a sostegno delle edilizie e dell'urbanistica. Sono azioni, come dicevo, svariate che vanno da riorganizzazione degli uffici a riforme normative nel regolamento edilizio sono previste varianti alle norme tecniche di attuazione interventi di semplificazione quindi interventi che fanno in modo tale che il comune eroghi sempre più servizi online cioè sono azioni che vanno nella direzione sempre più di andare verso l'utilizzo del patrimonio edilizia esistente quindi semplificando le procedure e cercando anche di trovare degli sgravi sugli oneri per questo tipo di attività. Tra le azioni previste anche un intervento sul regolamento comunale. Un altro elemento fondamentale che si è dimostrato in questi giorni di emergenza sanitaria è tutto il tema che riguarda la possibilità e l'incentivo ai progettisti di progettare case, abitazioni e luoghi per la vita sempre più che permettano ai cittadini di stare all'aperto quindi terrazze, balconi in contatto con la natura e quindi questo per esempio si può fare attraverso riforme regolamentarie che stiamo suggerendo alla regione ma che vorremmo fare anche noi nei nostri regolamenti sostanzialmente di togliere dal calcolo della superficie ad esempio queste funzioni. Nel documento spazio anche agli ecobonus e contributi per l'antisismica creando una sinergia fra pubblico e privato che coinvolge le più importanti ESCO un piano che per EPP vale 20 milioni. Ed era questa la nostra ultima notizia grazie per averci seguito arrivederci.